Cazzo il volo La musica se stare non mi fa fermare, non voglio alcune amici, ma solo una pietra in piedi, le varie la mia trovia non mi fa fermare. E' divertente comunque da me potrei così un'asta. L'applautometro? No, veramente un'asta. E' la riscaldamento? Dai dai, andiamo tanto. Adesso è una peruta. Ma dai che fa fermo. Allora che succede? Non si sa che cosa succede adesso, non sta succedendo niente. E' il riscaldamento. Riquidate la prova. Dai, bisogna fare l'applauso. E' un applauso bello. Ma già dimmi la prova. Eh, ma si sa che vogliono applausi il ragazzo, già da qua si capisce. Benissimo, forte l'applauso per Camilla. Bravo. E' un applauso uguale eh, rifacciamo la gara. Forte l'applauso per Elena. Bravo. E' un applauso per Elena. 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 è un maschio, c'è pure lei però, viva Cecilia, lei ha ballato un tanto pure lei, bravo Rodrigo, bravo Rodrigo, maia!